Si chiama Sam il Melograno e nasce dall'idea di tre amici, i fratelli Salvatore e Michele Agueli e Toto Valenti. Durante una delle loro solite uscite in bici, osservando i campi delle campagne attorno, si sono resi conto che si alternavano sempre le solite culture legate alla tradizione del territorio. I tre hanno in comune la voglia di innovazione, lo spirito d'iniziativa e questo li ha portati ad impegnarsi nella ricerca di una cultura diversa che potesse essere innovativa per il territorio e potesse rappresentarlo. Le loro idee dunque si indirizzarono verso la cultura del melograno ed è così che è nato il progetto sulle adozioni dei melograni che consiste nel dare in adozione uno o più alberi di melograno per un anno e si prefigge l'obiettivo di far conoscere, apprezzare e difendere la natura. Il progetto valorizza la cultura della buona conduzione agricola insieme alla sana alimentazione consentendo di partecipare virtualmente alle attività culturali dell'azienda agricola al fine di promuovere il rispetto e la salvaguardia dell'ambiente. In questo percorso di coproduzione l'adottante viene informato da un esperto sulle cure che l'azienda riserva agli alberi di melograno per diventare una sorta di coltivatore virtuale ma partecipe dell'iniziativa. È inutile dirlo che ad esserne felici sono soprattutto i bambini che si ritrovano già genitori adottivi di diversi alberi di melograno. Si adotta l'albero e poi si inizia a seguire, nel momento in cui si adotta l'albero si inizia a seguire l'albero, la crescita dell'albero, i lavori, tutto l'itered, tutto l'anno solare. Poi si viene proprio alla raccolta dei frutti, no? Sì, durante l'anno si viene a visitare l'albero, a vedere come cresce, come crescono i frutti e alla raccolta si può partecipare, è bello partecipare. Un poco di succo di melograno poi ci tocca o no? No, vi tocca proprio i frutti. Ah, ci toccano proprio i frutti? Grazie a tutti.